Allora, Federico, ci avete preso il gusto, in giro dell'andarte tornate a casa spesso ogni volta, per spesso avete fatto tre vittorie, un pareggio in ultime quattro partite. Bisogna cercare di provare a portare a casa anche quello. Hai subito un pochino la loro fisicità al primo tempo, nel senso che quando voi vittuate su palla, loro riprendevano sempre loro, quindi hanno giocato un po' più loro, hanno avuto l'attaccato, poi invece al secondo tempo siete cresciuti. Sì, anche se nel primo tempo abbiamo avuto anche un paio di occasioni, anche su palla inattiva, però comunque anche nel primo tempo abbiamo espresso un buon gioco, siamo soddisfatti, poi nel secondo tempo l'abbiamo chiusi là, non l'abbiamo praticamente mai sofferto. È la nostra forza, la corsa, la dinamicità, la forma fisica è quella cosa in più che ci aiuta per portare a casa punti. Ecco, diciamo, mister, dopo 15 punti in 7 partite, teoricamente uno doveva pensare a dire, fatta, invece si è ancora lì, perché dopo 6 partite, anche 6 partite, te sono 4 punti alla fine di vantaggio. Campionato tostissimo, comunque come hai detto te, nonostante siamo riusciti a fare tante vittorie e tanti risultati utili consecutivi, siamo sempre lì che lottiamo, ma noi non dobbiamo pensare agli altri, dobbiamo pensare a noi stessi e cercare di portare a casa, come ripeto, come ho detto prima, la partita di domenica che anche lì è fondamentale. Ecco, bene.